Due rose bianche e altri fiori sono stati portati qui nelle scale della sede dell'archivio di Stato dove Piero e Filippo, i due dipendenti, sabato scorso hanno trovato la morte. Per la morte di Piero Bruni, 59 anni, e Filippo Bagni, 55, asfissiati dall'Argon, rilasciato dall'impianto antincendio, ci sono cinque indagati, tra loro il direttore dell'archivio di Stato Claudio Saviotti e Maurizio Morelli, titolare della Remas, che aveva in appalto la manutenzione del sistema antincendio. Uno dei primi, oltre al direttore Saviotti, a precipitarsi sul luogo della tragedia quella mattina. Sotto accusa c'è dunque la manutenzione dell'impianto ed il piano di sicurezza. Tante ancora le domande che devono trovare una risposta. Che cosa abbia fatto scattare quel maledetto allarme che segnalava un'anomalia? E perché i due dipendenti hanno deciso di scendere le scale per arrivare alla stanza dove erano custodite le bombole di Argon? La procura di Arezzo procede per omicidio colposo plurimo. Gli altri indagati, l'architetto Monica Scirpa, responsabile del servizio prevenzione e protezione della IGEAM SRL di Roma, e Alessandro Vannaroni, project manager della IGEAM. Azienda incaricata dal Ministero dei Beni Culturali per la redazione del documento di valutazione del rischio. Infine, iscritto nel registro degli indagati, anche Gianfranco Conti della Cominel, azienda che opera nel settore dell'installazione e manutenzione degli impianti industriali. Il MIBAC ha dedicato a Bagni e Bruni le giornate europee del patrimonio e proclamato una giornata di sciopero generale. I funerali di Piero Bruni si terranno alle 15.30 di martedì nella chiesa della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, dove venerdì scorso si è tenuta una veglia di preghiera. Quelli di Filippo Bagni, invece, si terranno mercoledì mattina alle 11 in cattedrale.